Più mentiranno tutti noi e più restituiremo tutti i rimborsi elettorali. E ora è evidente che, dato che queste elezioni le abbiamo con umiltà leggermente stravinte, è evidente che il Presidente del Consiglio deve rapidamente approvare il reddito di cittadinanza. La corruzione di Equitalia è una vera legge anticorruzione, non quella buffonata che ha fatto insieme a Verdini. La propaganda di regime non funziona più, ora informeremo tutti i cittadini anche sulle loro schiforme costituzionali fatte insieme a Verdini, condannato per corruzione in primo grado, informeremo i cittadini e torneremo ad essere in questo Paese popolo sovrano e non suddito dei partiti. Grazie a tutti!